Questo è dedicato a te Davide, guarda un po' che mi ho beccato a Latina Ma tu sei così greca che siamo a Latina e mi ho beccato l'F1 Eh però purtroppo non è che potremmo telefonare e direte vieni con noi, siamo partiti a 5 e mezza Eh, non so Il nostro amore La vettura numero 555, c'è pure un numerazione particolare personalizzata, hai capito che roba? Era un livello Eh, ma comunque spingi eh, sai che? Senti che rumore che fa Andiamo a cammino, fa 60 o? E' sparato a mano a 60 o? Fa 60 o? Ma che è la dannata o? Grande F1 Latina Forever E' il fruttore E' il fruttore dei Simpsons Ah 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 Come ti aveva diventato una mamma? Ma non fare male Secondo me ci vedavi del qua sopra l'F1 che sto sentito questo rumore uuuuuh Mamma mia Ah ah Veniva Ah ah, se ne veniva 3-4 volte Vabbè va Bella da, non rosicà eh Non rosicà Non fa rosicone Non rosicà Ma non rosicà